va bene posso tenere la telecamera in mano ok allora quella è la mia esca ora vediamo quanti pochi pesci ci sono qua pochi 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 ecco il primo che sale non so se notate le dimensioni del verro che ora gli porto le esca davanti è sparito dall'eco ecco gli altri verri che si cominciano a muovere c'è questo qua verde che è un po' di tempo che sale e gira in mezzo all'esca ma non vuole mai mangiare io quando vedo degli archi verdi mi emoziono ok adesso ce ne sono due sui sei metri enormi quello verde è sparito dall'eco ne sta salendo un altro dal fondo sul fondo c'è un po' di guerriglie ecco un altro lì che sale altro giallone due sono uno sopra l'altro il mio carassio è lì in mezzo ecco che salgono a sette metri sono due enormi a sette metri continuano a salire sono due perché si vede bene che è doppiata la linea eccoli che curiosano ne è partito un altro un po' più piccolo dal fondo un altro ancora adesso ce ne sono uno sul fondo e uno sui sette metri e mezzo la mia esca sta rasando il fondo intorno agli 8 metri 8 metri e mezzo non si vede nell'eco ma vedi ecco ora siamo in mezzo a un famoso balloon de fish ecco il verdone c'è ancora il verdone in mezzo questo deve essere al minimo 2,50 volevo solo farvi vedere quanti pochi pesci ci sono in questa buca c'è proprio due o tre tutti piccoli è raro vedere delle scene di grossi pesci giallo verdi di queste dimensioni che girano intorno alle esche ma non gliene frega niente hanno già mangiato con la piena e hanno la panciona gonfia ce n'è uno che sta scendendo a fondo guardate il nostro amico verdone lì come è salito guardatelo questo è il nostro amico verdone il verdone quando l'eco segnala verde di norma è un 2,50 perché vuol dire che è molto denso mi muovi la canna un attimo Luca che faccio vedere la linea della mia esca piano 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 alto alto ok perfetto ce n'è uno che ok scendi ce n'è uno che è salito adesso due che sono salito al fondo guardate due più piccoli scendi lasciala lì lasciala lì appoggio la pura che intanto filmiamo ce n'è un altro sopra addirittura ne ho che mi sta scendendo dall'alto ce n'è un gruppo sui sei metri non giganti ok 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 Grazie a tutti